Stasera, stiamo in giro, mi vedi se sei inquadrata per piacere? Ma sentite la voce bassa. No, mi voglio anche riprendere così, memorizzo quanto ero cogliona, mentre dobbiamo scrivere questo attivo. Bene, e che lo scriveremo, anzi, siccome il prossimo numero... Non sono rilassativi. Il prossimo numero di questo libro sarà sicuramente in forma digitale, per cui avremo già pronto l'articolo programmazione edizione. Ma torniamo a noi e diciamo che questa sera c'è la Quintana, ci siamo di trovo del Giotto, c'era Sara, Massimo, Sergio, Claudia Monà. Dovina che si possono, tutti i miei ex compagni di classe. Ebbene sì. Mi sento molto rossalizzata. Ciao, sto cercando di spegnere, ma non...